Dove ti scampi? Aspettane! Allora, aspetta che ti apro l'altra porta. Basilico, peperone, insalata, pomodoro. E questo? Eh, peperoncino. Ciao, americana. Pian. E dove va? Madonna, perché? Te che ti ha dato la patente? Me lo scordi. Ma questo è il giudice. No, non si gira. Ma il problema è il sotto, eh? Ma che beutifo sta facendo un film? Ma che beutifo sta facendo un film? Ma che beutifo? Ma che beutifo? Ma che beutifo? Ok, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, sì che si respira bene. Grazie a tutti.